Ciao, sono Elisa Mariotti, sono qui al salone di Sorino con Fata Librina e le favole della Buonanotte, edito da Ish Fiji e questo libro è un libro di favole per bambini che introduce, la prima storia introduce il personaggio di Fata Librina, che è una fata che ha un potere particolare, cioè quello di riuscire, fra le altre cose, anche ad aiutare dei genitori che sono un po' in crisi per i bambini che non dormono, con un libro speciale che si intitola Sette Storie per Sette Giorni e che i genitori dovranno leggere a bambini ogni giorno, una storia diversa al giorno e queste storie avranno il potere di farli non soltanto addormentare, ma far far loro anche dei bellissimi sogni e soprattutto imparare qualcosa, perché ogni favola, come ogni favola che si rispetti, ha la sua propria morale. Ciao!